Situazione stabile dal punto di vista dei ricoveri alla Asli di Teramo. Questo è il report presentato durante la consueta conferenza stampa organizzata dall'azienda sanitaria per fare il punto. La situazione diciamo che è stabile perché il numero rimane comunque quello delle settimane precedenti. È un po' diminuita l'età dei pazienti che vengono ricoverati. Diciamo che l'ultimo ricoverato che abbiamo oggi, effettuato questa notte, è una ragazza del 1984. Perciò capiamo come purtroppo l'età rispetto alla prima ondata ha subito una variazione. Però il numero dei ricoveri è rimasto pressoché uguale. Inoltre tra giovedì e venerdì saranno operativi presso il terzo lotto dell'ospedale Mazzini 21 posti letto di terapia subintensiva. Se avverrà il trasferimento della pneumologia nel nuovo reparto che è stato allestito con una tecnologia all'avanguardia. Saranno posti letto di subintensiva dove il personale sarà formato per effettuare una terapia ad alto flusso di ossigeno. E per noi è un grande orgoglio. Da domani verrà avviata la somministrazione di anticorpi monoclonali per la terapia di pazienti con sintomi lievi o moderati di Covid-19 che presentino particolari fattori di rischio. Questi farmaci in grado di ridurre il ricovero e complicanze se assunti precocemente possono venire somministrati per endovena in centri specialistici a pazienti selezionati da USCA e medici di medicina generale. Domani è un'altra giornata molto importante ed è l'attivazione della terapia degli anticorpi monoclonali. Sarà una terapia che verrà eseguita da parte dei medici di malattie infettive coordinata dalla responsabile che è la dottoressa Antonella D'Alonso coordinata anche dal dottor D'Elemona che ci ha dato un grande aiuto nell'attivare questo tipo di terapia. L'ambulatorio per adesso sarà localizzato solo nelle malattie infettive. Ma se la domanda sarà tale, questo ambulatorio verrà replicato sia nel presidio di Atri che in quello di Giulianova dove attualmente ci sono ospedali Covid. Infine la ASL ha annunciato che nei giorni di Pasqua e Pasquetta continuerà la campagna vaccinale con la somministrazione sui dializzati che verranno eseguiti dai medici direttori dell'azienda sanitaria.